Mi fa piacere a me partecipare, lo trovo giusto, rispetto al vostro lavoro ma preferisco non parlare, ovviamente per me è un momento difficile, quindi preferisco di parlare. Come sempre, lui partecipa attivamente, naturalmente lo fa principalmente sulle considerazioni tecniche, queste sono udienze dove potrebbe anche tranquillamente rimanere assente, ma anche per evitare un'ordinanza di assenza che ci sarebbe stata in questo caso per la sua mancata partecipazione, lui intende essere presente alle fasi di udienza preliminare e eventualmente al successivo processo, quindi lui è presente, ma ovviamente è scosso come sempre, ogni volta che si torna su questa questione riaffiora tutto, tutto molto prematuro, anche perché prima c'era un'interlocuzione sui capi di imputazione, sulla loro formulazione, dovremmo vedere queste cose, però siamo in un segmento precedente.